Buonasera, buonasera da Onda Tg in apertura subito, la cronaca trasferiti i migranti ospiti della Casa Santa dell'Annunziata dopo il controllo dei NAS e una sconfitta per il candidato sindaco di Sbic, Alessandro Lucci, l'edificio scrive su Facebook, non ha nulla di contestabile, noi facciamo il punto nel servizio. Devono fare le valigie i migranti ospiti della Casa Santa dell'Annunziata, lo ha stabilito la prefettura dell'Aquila all'indomani del blitz dei NAS di Pescara che hanno riscontrato nella struttura di Corsovidio una situazione di sovraffollamento oltre a carenze igienico-sanitarie. Una decisione presa in via cautelativa in attesa dell'essito dell'ispezione. Sulla vicenda a prendere una posizione è Alessandro Lucci, uno dei candidati sindaci delle prossime elezioni amministrative. Ho fatto tante esperienze nei centri di seconda accoglienza e questo di Sulmona non ha nulla di veramente contestabile, scrive Lucci su Facebook, sostenendo che non si può chiudere un intero progetto per un 3x3. Spazi ampi, tutto pulito e banni nuovi, solo una stanzetta da chiudere che ospita una coppia, moglie e marito. Io ho lavorato, prosegue sia a Bologna che in altre città, nei centri di seconda accoglienza, dove gli spazi non erano sicuramente questi. Anche perché con questa mossa perdiamo posti e ore di lavoro delle persone che ci lavorano qua dentro, un centro di seconda accoglienza veramente ben messo, rispetto ai parametri che io conosco in tutta Italia. E intanto il candidato sindaco di sovranità Alberto Di Giandomenico plaudi all'interesse dei nasse delle istituzioni, priorità ai giovani e alle famiglie, sostiene il leader di sovranità. La politica non resta indifferente alla vicenda che sta interessando ai migranti ospitati in città dall'IPAB Cassa Santa dell'Annunziata. Plaude alle istituzioni, ai nasse il candidato sindaco di sovranità Alberto Di Giandomenico. Sovranità Sulmona ha colto con soddisfazione la notizia dell'interessamento delle istituzioni e del controllo del NAS dei carabinieri, finalizzato la verifica delle condizioni igienico-sanitarie della struttura di corso video, gestita dalla IPAB Cassa Santa dell'Annunziata fa sapere di Giandomenico. Se le irregolarità dovessero essere confermate, è certo che i richiedenti asilo dovranno essere trasferiti in un'altra struttura idonea, aggiunge il candidato sindaco di sovranità che tiene a precisare il fatto che i bandi per l'accoglienza dei richiedenti asilo prevedono specifici standard che le strutture devono rispettare ed è interesse di sovranità, così come dovrebbe essere interesse della futura amministrazione, esigere che vadano prese in considerazione prima le forti problematiche della nostra gente. Le nostre famiglie senza casa, i nostri giovani senza lavoro, i nostri artigiani e commercianti senza alcuna prospettiva futura, secondo noi devono e dovranno avere la massima priorità chiosa di Giandomenico. Era l'ospedale di Popoli, occupazione in stand-by dopo il ricovero per una settimana del sindaco Concezio Galli che è stato paziente dello stesso ospedale. Ora fortunatamente sta bene, sarà recuperato nei prossimi giorni intanto l'incontro con il manager Mancini. Anche in convalescenza il sindaco Galli non molla la lotta per la difesa del nosocomio. Il punto. Anche da letto dell'ospedale, dove è rimasto ricoverato per circa una settimana, il sindaco di Popoli Concezio Galli continua a lottare per il nosocomio cittadino. Il presidio di occupazione attivato dall'amministrazione comunale è stato sospeso proprio per l'adegenza del primo cittadino in prima fila per chiedere più investimenti sull'ospedale alla regione e alla ASL. È saltato anche l'incontro con il manager Mancini, previsto per lunedì scorso. Ma quello di Galli è solo un problema di salute risolvibile, tant'è che già sta meglio. Pensare di aver letto del reparto di medicina di Pescara, di pazienti nei corridoi e nella stanza e dove sto io, un letto libero e non occupato, la dice tutta di come chi deve fare le scelte abbia una visione molto lontana dalla realtà, ha fatto notare Galli dal reparto di medicina dove è stato ricoverato. Stanze accoglienti e super pulite, personale dotato di grande professionalità e capacità, medici di livello, basterebbe poco per alleggerire il presidio di Pescara e usare senza costi aggiuntivi quelli periferici come il nostro, rimarca il primo cittadino che annuncia il recupero dell'incontro con il manager dell'ASL di Pescara Mancini. Abbiamo dovuto rinviare l'incontro con il direttore generale, causa questo mio ricovero, ma lo stesso ha già dato disponibilità a incontrarci nei prossimi giorni. A seguire di ciò decideremo nuove azioni, conclude Galli. In difesa dell'ospedale di Popoli si è schierato anche il centro Abruzzo con i comuni di Tocco da Casauri, Abussi sul Tirino, Vittorito e Corvara. Oltre 2.000 persone hanno sottoscritto la delibera del Consiglio Comunale numero 41 del 2 ottobre 2015, dove il Comune chiede alla ASL più investimenti sulla risonanza magnetica nucleare, l'installazione della TAC, la riabilitazione e il potenziamento dell'endoscopia digestiva. Lunga vita al premio Capograssi, lo ha detto stamani a Sulmona il presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, che ha presieduto la solenne cerimonia al Teatro Maria Caniglia, un premio che torna dopo ben otto anni. Vediamo tutto nel servizio. Contributo proprio per una miglior conoscenza di questo grande personaggio, che onora veramente Sulmona e Sulmona deve essere consapevole di questo. Il premio Capograssi deve avere lunga vita. Dovete rimboccarvi le maniche. Sulmona ha bisogno di Capograssi, un uomo che può trasferire la speranza ai giovani spesso disperati. Lo ha detto il presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, che ha presieduto al Teatro Caniglia di Sulmona il premio Capograssi nel sessantesimo anniversario della morte dell'insigna giurista. Occorrerebbe riscoprirlo. E qui a Sulmona e qui in Abruzzo, una terra che era a lui particolarmente cara, dovete rimboccarvi le maniche, agire proprio in questa direzione. I giovani hanno oggi bisogno di Capograssi, anche perché può essere un messaggio di speranza. Ad aprire la giornata solenne è la deposizione della corona dall'oro presso la statua in piazza Capograssi. I premi sono conferiti a Ghetano Calabro, professore merito di storia delle dottrine politiche dell'Università La Sapienza di Roma per la vita etica, Angelo Antonio Cervati, professore merito di diritto costituzionale per lo Stato di diritto e Ernesto Galli della Loggia, professore ordinario di storia contemporanea e noto editorialista del Corriere della Sera per l'attualità storica. È stato proprio della loggia rimarcare come Capograssi nella sua vita è stato capace di mettere insieme la libertà individuale con l'autorità dello Stato, un profondo equilibrio che il giornalista addita ai giovani. E cose potremmo imparare? Imparare il centro per l'attualità di Capograssi, cioè mettere insieme la libertà individuale con l'autorità dello Stato. Il premio è tornato in città dopo 8 anni grazie all'ex assessore comunale alla cultura a Luciano Marinucci, al Presidente del Consorzio Universitario Fabrizio Politi, al Presidente regionale della Fondazione Capograssi Lando Sciuba e a Gianni Febbo, già comandante della Polizia Municipale di Sulmona. Una manifestazione che nel futuro non potrà più mancare. Il premio Capograssi deve essere un appuntamento fisso per la città, lo ha detto a margine della manifestazione, il candidato sindaco di Forza Italia Elisabetta Bianchi. Accolgo con favore il ritorno, dopo 8 anni di assenza, del premio Capograssi, iniziativa che dà lustro alla città di Sulmona. E quanto afferma in una nota l'Avvocato Elisabetta Bianchi, candidato sindaco di Forza Italia, al termine dell'evento che si è svolto questa mattina al Teatro Maria Caniglia, a cui è partecipato tra gli altri Paolo Grossi, Presidente della Corte Costituzionale. Sarà mio impegno, aggiunge Bianchi, far tornare tale premio a un appuntamento fisso per il capologo Peligno e promuovere la conoscenza del noto giurista di origini sulmonesi tra le nuove generazioni. Ritengo infatti lo studio di Giuseppe Capograssi e delle sue opere indispensabile per la formazione dell'essere umano. Infine, stigmatizzo, ma non mi sorprende, sottolinea l'assenza della regione Abruzzo, che oggi ancora una volta ha dimostrato totale disattenzione nei confronti del territorio. E intanto è partito stamane il sedicesimo sentiero della libertà fra pioggia, emozioni, memoria e sorrissi. La prima tappa, come sappiamo, è campo di Giove. Vediamo tutto. 500 marciatori, alcuni provenienti anche da Cuneo, Brescia, Roma e da gran parte d'Italia, sono partiti stamane da Sulmona per la sedicesima edizione del sentiero della libertà, trekking sui sentieri della Maiella, il ricordo dei prigionieri e partigiani. Con ombrello e QA e con il sorriso sulle labbra, stanno percorrendo il lungo itinerario che li porterà lunedì 25 aprile a Casoli. Una partenza benedetta dalla pioggia che non ha scoraggiato i marciatori. Dicesima edizione, speriamo di fare bene, di fare meglio, di fare il solito, quanto meno, sempre di passare il testimone. Il Freedom Trail tutti gli anni si ripete proprio per questo, passare il testimone della memoria. La prima cosa è la gioia perché comunque è un cammino che va fatto con lo spirito giusto. È sempre un'esperienza bellissima camminare con tutti questi ragazzi. L'obiettivo dell'associazione è proprio quello di trasmettere il messaggio della resistenza umanitaria e di tutto quello che l'Abruzzo ha fatto per la liberazione, quindi i migliori auspici come sempre. Le auspici sono quelli di una marcia condivisa, di rinsaldare legami di amicizia, di ritrovare quei valori che spinsero tantissime persone a battersi per la libertà, ha sottolineato Maria Rosaria Lamorgia, presidente dell'associazione Feed on Trail. L'idinerario è quello di sempre. Oggi facciamo sul Monacampo di Giove, domani ci sarà la traversata della Maiella, quindi saliremo a Guado di Coccia, tempo permettendo, per scendere poi a Tarantapeligni, al Sacrato della Brigata Maiella e rendere omancio alla Brigata Maiella e infine il 25 aprile l'arrivo a Casoli. Alla cerimonia di apertura in piazza 20 Settembre erano presenti fra gli altri il commissario prefettizio del comune di Sulmona Giuseppe Guetta, il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis e il sindaco di Campo di Giove Giovanni Di Mascio. In prima fila al taglio del nastro anche un sopravvissuto degli ufficiali della Brigata Maiella, Gilberto malvestuto con i suoi 95 anni. E ci spostiamo a Prato-la-Pelinia perché arrivano altri 300 mila euro per il santuario della Madonna della Libera. Il recupero del luogo di culto è stato annoverato fra le opere del masterplan del centro Abruzzo. Sentiamo i particolari. Il recupero e la messa in sicurezza del santuario della Madonna della Libera di Prato-la-Pelinia è stato inserito nel masterplan del centro Abruzzo. 300 mila euro è la somma stanziera dalla regione che si va ad aggiungere agli 800 mila euro che sono stati erogati lo scorso 26 novembre da una delibera Cipe. Il finanziamento rientrava negli interventi della ricostruzione pubblica del governo riguardanti 53 chiese e 13 scuole. Un altro passo in avanti per riportare l'antico splendore un luogo di culto simbolo della tradizione pratolana. Nei prossimi giorni sarà il centro dei riflettori per i festeggiamenti della Madonna della Libera. Il santuario mariano è stato seriamente danneggiato dal sisma del 2009. Nel corso degli anni sono stati eseguiti degli interventi di recupero e di messa in sicurezza ancora ben visibili. L'edificio beneficiò anche della famosa legge Mancia per 250 mila euro. Ad occuparsi della riparazione del luogo di culto nel maggio 2012 fu il comitato per i festeggiamenti della Madonna della Libera dell'epoca che diede vita a una raccolta fondi riuscendo a raggiungere una cospicua somma. La messa in sicurezza del santuario è uno degli obiettivi dell'amministrazione De Crescentis assieme al recupero della chiesa di San Rocco anch'essa danneggiata da sisma del 2009. Studenti della scuola media Panfilo Serafini di Sulmona, veri ambasciatori del confetto sulmonese, ennessimo successo per il progetto dell'impresa simulata. Sentiamo nel servizio. Ennessimo successo per la confetti Panfilo Serafini, l'impresa simulata dell'omonima scuola media che trasforma gli studenti in veri e propri ambasciatori del confetto sulmonese. Recentemente la classe seconda B ha spopolato in quel di Fanano, nella fiera che si è svolta nel Palaghiaccio. Oltre 50 le imprese simulate che hanno preso parte della manifestazione, provenienti non solo dall'Italia ma anche da varie nazioni europee, tra le quali Lussemburgo, la Bulgaria e la Moldavia. Il progetto ridattico di simulazione d'impresa consiste nel riprodurre, all'interno di un laboratorio scolastico, un ambiente di lavoro, nel caso specifico un'azienda di commercializzazione di prodotti tipici di sulmona, confetti, fiori di confetto e bomboniere. Abbiamo rivestito la copertina del catalogo con dell'aiuta e poi incollato con della colla a caldo i confetti. E infine scritto su questi confetti in rilievo il nome della nostra impresa, quindi i confetti Panfilo Serafini. Io ho dato il mio contributo dipingendo le cassette e tutte le altre parti in legno. Noi commercializziamo confetti, facciamo fiori di confetti, cesti, bomboniere. E per l'allestimento dello stand abbiamo allestito con dei palloncini, con dentro dei confetti. Ora vi mostrerò i due spot che ci hanno concesso di vincere, uno il primo premio per la presentazione del territorio e un altro spot che ci ha permesso di vincere il secondo premio appunto per la presentazione dell'impresa. I fiori di confetti si fanno con un cellophane avvolto al confetto, poi con un ferro, dopo aver finito il fiore di confetto, la carta, la carta crespa. La cosa più importante per me è andare a cercare gli sponsor, cioè andare in giro per la città, per le imprese vere e chiedere un aiuto economico. Io e due miei colleghe abbiamo indossato degli abiti datici dalla Santa Maria della Tomba, il borgo di Sulmona. Insieme a noi si è travestito anche un nostro collega chiamato Angelo e si è travestito da confetto vivente. Il laboratorio dell'impresa simulata è suddiviso in varie postazioni, ognuna delle quali svolge mansioni specifiche e secondo procedure codificate, segreteria, marketing, personale, contabilità, tesoreria, magazzino, acquisti e vendite. Anche questa volta i ragazzi hanno avuto una spiccata fantasia, siamo orgogliosi di questa realtà, ha detto Gianluca Gianmarco della Confetti Pareggi, testimonial della Confetti Serafini. Si applicano, hanno tanta fantasia, tutti insieme, collaborano, fanno anche i fiori proprio in confetto a alcuni ragazzi e complimenti anche per quest'anno. Una realtà, quella dell'impresa simulata della Scuola Media Serafini, che merita di essere valorizzata anche dalle istituzioni. Complimenti a ragazzi e docenti. L'Innerwill chiama raccolta le donne del centro Abruzzo nel segno della creatività, inaugurata stamane la mostra alla rotonda di San Francesco a Sulmona. Vediamo. Riunire le donne del centro Abruzzo sotto il nome della creatività. Questo è il senso della mostra, denominata proprio Creatività Donna, inaugurata stamane alla rotonda di San Francesco, promossa dall'associazione Innerwill, giunta alla quarta edizione. Oltre 50 le protagoniste della Kermesse, che rimettono in auge l'artigianato tradizionale, contomboli, merletti, complementi d'arredo, accessori, costumi d'epoca, gioielli. Da quattro anni noi organizziamo a fine anno sociale un momento per chiamare a raccolta le donne del centro Abruzzo nel segno della creatività, spiega la presidente Innerwill Chiara Buccini. Una mostra ogni volta diversa perché la creatività non si ferma ed è in continuo movimento, aggiunge la giornalista. Mi piace inaugurare ogni volta questa mostra perché la vedo ogni volta diversa, perché poi la creatività è qualcosa che giustamente non si ferma, è sempre in continuo movimento, un po' come lo è anche il nostro club. Noi siamo presenti a Sulmona da 31 anni. Al taglio del nastro della mostra che resterà aperta fino a lunedì 25 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, sono intervenuti anche il commissario prefettizio del comune di Sulmona, Giuseppe Guetta, e la senatrice Paola Pelino, che ha ricordato come in Senato si va verso la definizione di un disegno di legge che prevede uno statuto per le lavoratrici autonome e per le imprenditrici. Dove noi vogliamo dei riconoscimenti a tutti gli effetti come lavoratori dipendenti, questo per tutelare e garantire il lavoro di tante e tantissime donne che oggi affrontano questo mondo in cui l'Italia in Europa ha un primato. E ora apriamo la pagina sportiva con l'atletica. Le scuole sulmonessi dominano i campionati provinciali studenteschi. Oltre 150 studenti hanno dato vita a una serie di risultati che consentiranno le due migliori formazioni scolastiche, la partecipazione alla fase regionale in programma a Pescara il 3 maggio presso lo stadio Adriatico. Confronto diretto tra il Polo Scientifico Tecnologico Ricofermi di Sulmona, il Majorano di Avezzano e il Bafile dell'Aquila. Tra i risultati di maggiore prestigio vanno ricordati quello di Davide di Cesare, nei quattro centrometipiani che ha ottenuto un tempo di 52 secondi, il minimo di partecipazione ai campionati italiani allievi, anche la staffetta 4%, composta da Presutto di Sabatini, Liberatore di Cesare, ha corso con il tempo di 46,7 conquistando un eccezionale primo posto davanti alla quotata formazione dell'Istituto Industriale di Avezzano. In campo femminile, netta vittoria del Fermi che per questa occasione è riuscita ugualmente a conquistare il primo posto in classifica. Le scuole medie invece si sono confrontate a Avezzano e anche qui c'è stato il dominio della scuola sulmonese Serafini di Stefano. Vanno segnalate le vittorie di Daniele Silvestri nei mille metri, Remo Parazzone negli 80 ostacoli, Luigi Marrese nel salto in lungo e Alessandro Cinque nella marcia. Tra le donne successo di Valeria Del Rosso, Lucia Santucci, Alessia Di Renzo e Fulbia Leombruni. E ora il torneo di calcio dedicato alla Madonna della Libera di Pratola Pellinia si è aperto oggi con la prima giornata. Vediamo com'è andata nel servizio di Domenico Berlingeri. Ha preso il via al campus di Pratola Pellinia la quindicesima edizione del torneo di calcio giovanile Madonna della Libera organizzato dalla Virtus Pratola, società affiliata con la Roma. Nella prima giornata sono scesi in campo i piccoli amici nati nel 2009-2010 in gare di calcio a 5. Otto le squadre che hanno partecipato. Oltre alla Virtus Pratola c'erano il Pratola 1910, il Raiano, la Pro Sulmona, il Luco, la Hop 2000 di Scanno, la Torre Alex e la futura di Cepagatti. Il presidente della Virtus Pratola Giovanni Tofano. Quindicesima edizione, anche quest'anno un successo. Speriamo che il tempo ci favorisca perché le previsioni non sono rose. Noi ci contiamo. Oggi sembrava brutto, invece guarda un po' che giornata splendida per il gioco a calcio. Sono interessati tutti gli atleti delle categorie di base fino alla categoria di sordiente. Oggi diciamo è l'apertura, non facciamo classifiche, è la giornata più bella, ricreativa. E ci sono bambini 5-6 anni, quindi è il top del top. Le varie categorie si alterneranno in diverse giornate fino al 15 maggio, abbracciando tutto il periodo dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Libera, il presidente del comitato festeggiamenti Gian Lorenzo D'Andrea. Nel programma della festa c'è anche la valorizzazione dello sport ed in particolare del calcio a livello giovanile. Sì, diciamo che ormai da qualche tempo si propone questo torneo, sono più classi di bambini. È bellissimo vederli giocare, è sempre un'emozione. Era impensabile non riproporlo per farli divertire. Sono qui da un quarto d'ora a vederli, è un'emozione unica. Quindi penso che sia una delle cose più belle che abbiamo fatto con questa organizzazione. Proprio questo, diciamo, il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda lo sport. Cerchiamo di riproporre sempre questo bel torneo e ringraziamo anche chi viene a partecipare a questo torneo che ci permette comunque di dare visibilità alla festa e sì allo sport in generale. Silvio Libacco del Pratola 1910, allora un'occasione importante per promuovere le attività del calcio giovanile grazie a questo torneo che viene organizzato in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Libera. Torneo che deve servire per far divertire i bambini. Mi preme fare questa sottolineatura perché più si sale di categoria e più succedono sempre più spesso cose non gradite. Oggi come potete vedere anche il tempo, forse la Madonna ci ha aiutato, ha spostato qualche nuvola ha permesso ai ragazzetti di giocare, divertirsi, correre, tirare il pallone che è qualcosa di fantastico vederli correre in mezzo al campo. È un bel torneo, noi siamo tanti anni ormai che veniamo qui a Pratola siamo degli affezionati di questo torneo anche perché è uno dei pochi qui vicino che si organizza in un certo modo molto partecipato, è piacevole, è una buona esperienza per i bambini quindi veniamo volentieri. Spazio domani ai piccoli amici nati nel 2008 e 2009 mentre lunedì scenderanno in campo i pulcini nati nel 2007 e 2008. Ora invece veniamo al calcio, quello del campionato di promozione nel girone A, big match a Lezio Ricci con i Nero Stellati che affronteranno la capolista San Gregorio. Il raggiungimento del primo posto dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Montaurei si rende difficile per la squadra di Di Marzio che dovrà provare a vincere i restanti tre confronti a cominciare dalla sfida dei domani tanto attesa che però il pubblico non potrà seguire in quanto ancora una volta si giocherà a porte chiusa partita insidiosa contro la sorpresa San Gregorio che darà il massimo per far avverare il sogno della vittoria del campionato. Se i Nero Stellati dovessero vincere la lotta si renderebbe ancora più avvincente da parte delle quattro squadre di testa pratolani compresi che si trovano a vertice nel giro di 5 punti. Nel girone B del campionato di promozione la Pro Sulmona giocherà a Bucchiani coi biancorossi saranno costretti a vincere per rimanere in zona playoff la squadra di Cao proverà a prevalere rispetto al Bucchianico che essendo già salvo non ha più nulla da chiedere al campionato le gare da domani inizieranno alle 16.30. Ovviamente gare alle 16.30 anche nel campionato di terza categoria nel girone A confronto casalingo della capolista morronese che al campo di Bagnaturo ospiterà il Roio la squadra delle frazioni tornata al successo la scorsa domenica a San Demetrio dopo il pareggio a Goriano dovrà per forza vincere tutte e cinque le gare che restano per mantenere il vantaggio sul piano la che domani ospiterà la penultima in classifica Poggio Picenze nell'anticipo di oggi il Bazzano ha sconfitto il Bocatirino per 4 a 0 il Bazzano si rialza dopo la sconfitta di domenica scorsa mentre per gli ospiti il passo falso potrebbe pregiudicare la permanenza nella zona playoff il servizio di Bazzano Bocatirino realizzato da Tutto Calcio sarà trasmesso nell'approfondimento sportivo di Onda TV del lunedì delle 14 e in replica alle 21 vediamo invece che cosa succederà nel girone B del campionato di terza categoria il Pacentro prepara la festa per la vittoria in anticipo del campionato il distacco di 6 punti dalla seconda in classifica Castronovo domani aumenterà a 9 se il Pacentro vincerà in casa contro l'Aielli in quanto il Castronovo oggi è stato sconfitto nell'anticipo a Villa Vallelonga per 3 a 2 in virtù degli scontri diretti vinti con il Castronovo sia l'andata che il ritorno il Pacentro domani in caso di vittoria vincerà matematicamente il campionato in casa Pacentrana già si fanno i preparativi per i festeggiamenti visto che la gara contro la penultima in classifica Aielli sembra dal risultato scontato per quanto riguarda le altre gare spera di rientrare nei playoff l'Aurora che domani ospiterà il guido Liberati L'Ovidiana galvanizzata dopo la prima vittoria fuori casa la domenica scorsa a Canzano giocherà in terra marsicana contro il Forme ricordo invece che la rubrica di approfondimento di questa sera di Onda DG è dedicata alla prima giornata del torneo di calcio giovanile della Madonna della Libera Concerto a Roma di Vasco Rossi il prossimo 26 giugno partiranno Pullman anche da Sulmona Pullman dell'Agenzia Presutti per informazioni 0864 34 494 lo ripetiamo il contatto telefonico 0864 34 494 sono rimasti solo tre posti disponibili ebbene il telegiornale finisce qui noi con Onda DG ci rivediamo proprio nella festa del 25 aprile grazie per essere stati con noi a voi tutti auguro un buon fine settimana e una buona domenica arrivederci grazie per aver guardato il video